Benvenuti in questo primo atteso video corso, in questo video vi andrò a illustrare tutti i materiali che servono per cominciare a disegnare con gli spray. Quindi a partire dalle bombolette, alle spatole, alle mascherine, ai guanti e via dicendo. Vi dico subito che tutti i materiali che vi farò vedere durante questo video li trovate tutti in descrizione dove potrete acquistarli esattamente dai fornitori da cui mi rifornisco io. Quindi partirei parlandovi delle bombolette. Come potete vedere qui ci sono diversi tipi di bombolette, tutte diverse una dall'altra, in termini di marche ma soprattutto di finitura. Io però comincerei con la bomboletta più classica che è la bomboletta da ferramenta. È una bomboletta di smalto acrilico a finitura lucida. Questo è un nero ma ovviamente ci sono anche tutte le altre tonalità. Io ho selezionato questa marca che è la marca tecnica per una questione di qualità prezzo. Ne ho provate tantissime e devo dire che con questa qui mi sono trovato da dio. La copertura è ottima, ha un livello di pigmentazione sufficiente per essere una buona bomboletta coprente e soprattutto da non sottovalutare la valvola. Questa è una valvola dinamica, il che significa che a seconda della pressione che vado a fare sulla capsula uscirà più o meno vernice. È una peculiarità che non troviamo su tutte le bombolette che però è fondamentale per disegnare. Il costo si aggira intorno ai 3,30€-3,50€ e come vi ho spiegato a inizio video potete trovare il link del fornitore da cui mi rifornisco io in descrizione. L'unico limite che hanno le bombolette da ferramenta è il fatto che hanno poche sfumature. Infatti se andiamo a comprare un blu troveremo due o tre tonalità di blu, così con rosso, con rosa e così via. Infatti per avere delle sfumature un po' diverse, un po' più particolari, dobbiamo andare ad appoggiarci ad altre marche che adesso vi andrò a illustrare. Però prima passiamo alla bomboletta fluo, il che non significa che si illuminano al buio. Quella è la fosforescenza o la fotoluminescenza che non ha niente a che vedere con la fluorescenza. La peculiarità di queste bombolette è che sono colori molto molto accesi. Io le uso tantissimo sui miei quadri per dargli vita e per dargli colore. C'è anche da dire che puntandogli una luce UV al buio risalta ancora di più, quindi sembra che si accendono ma poi non rimangono accese come fanno i miei quadri. Vi consiglio di utilizzarle, costano un pochino perché siamo sui 6,50€, ma di questa vernice se ne usa davvero poca e conviene averle per dare un tocco in più ai propri quadri. Andiamo adesso a vedere delle bombolette più professionali, in questo caso parliamo della marca Montana. Qui abbiamo una finitura lucida, semilucida, effetti e opaca. Allora vi spiego un paio di cose su queste bombolette. Che utilizzo ne faccio e perché non le utilizzo di norma. Allora tanto per cominciare queste sono bombolette che sono studiate per essere utilizzate dai writer, quindi più che altro vengono utilizzate per fare i graffiti, appunto disegni sui muri. Perché non le utilizzo io? Non perché costano di più, perché non costano di più. Infatti la Montana White ad esempio costa 3,40€, quindi quanto quelle da ferramenta. La Gold qua 3,30€, comunque non un prezzo esagerato. Ma allora perché non le utilizzo? Perché queste bombolette sono veramente molto dense, che può sembrare una cosa buona ma nel nostro caso non lo è. Perché è facile che la cap si tappi e cominci a sporcarsi il disegno tramite degli schizzetti che fa. Quindi sono brutte da utilizzare, sono pericolose per il nostro disegno. Io le utilizzo il meno possibile. Le Montana Gold le utilizzo per fare degli sfondi che poi vi andrò a far vedere tra poco. E mi appoggio a loro solo e soltanto perché come vi dicevo prima, le bombolette da ferramenta sono limitate a livello di sfumature. Quindi quando mi manca una sfumatura da ferramenta, vado a appoggiarmi a una White o se non la trovo neanche tra le White vado nelle Gold. Ma ovviamente ne uso veramente pochissime, con molta parsimonia, perché come vi ho detto sono un po' pericolose. Non sono adatte alla spray art su fogli o su tela. Qui abbiamo una Black, una Montana Black. Questa è una finitura opaca, ad alta pressione, quindi spruzza davvero molto forte. Questa bomboletta la uso solo e soltanto quando mi serve avere una tela con base nera. Quindi a posto che comprare una tela direttamente nera, la coloro con questa. Ed è veramente molto 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 opaca ed è molto densa. Ed è fantastica per fare quella cosa lì, però non le utilizzo per nient'altro. Qui abbiamo degli effetti. Questo è il tipico effetto crackle che vedete in tantissimi miei quadri. Quindi effetto rotto. Questa la utilizzo come il pane. Io come sapete se mi seguite la utilizzo tantissimo. È una bomboletta che costa parecchio, che costa 11 euro. E non dura tanto, perché comunque ne va usata tanta. E null'altro da dire su queste bombolette, trovate sempre il link in descrizione. Questo è un altro effetto, effetto marble. Lo trovate ad esempio sul quadro di Venom. Lo trovate sul mio sito oppure su Instagram, sui miei video. Lo utilizzo veramente pochissimo perché non sono tante le volte in cui trovo il modo di usare questo effetto. Più che altro appunto utilizzo effetto crackle. Con l'effetto crackle va utilizzata la gold. Per utilizzare questo effetto gli va messo un colore sotto. Perché se no non si rompe e anche se si rompesse non si vedrebbe ovviamente il contrasto tra la rottura e il colore che c'è sotto. Quindi le gold sono perfette per fare lo sfondo e poi per andarsi a dare il crackle sopra. Quindi le gold hanno questo utilizzo per me. Niente di più, niente di meno. Le white invece servono per allargare più che altro le sfumature che la ferramenta non ha. Questo è tutto per le bombolette. Passiamo adesso agli altri attrezzi. Allora in ordine di priorità vi andrei a spiegare qualcosa sulla mascherina. Non disegnate senza mascherina, neanche all'aperto perché quella roba è tossica. Questa mascherina è una 3M Secure Click si chiama. È attualmente la mascherina più evoluta al mondo. Si trova poco e costa tutta completa sui 90-100 euro. Ha dei prefiltri, dei filtri, filtri di qua, filtri di là e costa uno sproposito. Io inizialmente non vi consiglio di comprarla. Se volete cominciare proverei con mascherine un pochino più economiche che trovate sempre nei link che vi lascio qui in descrizione. Ma mi raccomando utilizzate una mascherina con filtri al carbone. Sempre parlando di sicurezza non possono mancare i guanti usa e getta. Questi sono guanti che potete trovare ovunque, nei supermercati, su Amazon, in ferramenta, ovunque. Costano 5, 6, 7, 8, 9, 10 euro, non di più. Mi raccomando utilizzateli perché comunque la vernice a lungo andare sulla pelle potrebbe non farvi bene. Passiamo adesso alle spatole. Se avete già visto dei video, i miei video o altri video su YouTube saprete già a cosa servono. Allora, ad esempio questa spatola grande, è lunga circa 60 cm, io la uso per dividere il foglio. Ad esempio quando devo andare a fare un mare, cielo, mare, divido, spruzzo, tolgo e pazzo il mare. Quindi serve per dividere gli spazi sul foglio o sulla tela. Queste più piccole, stessa cosa, si possono utilizzare per diversi scopi, che poi andremo a vedere nei video successivi. O per fare delle stelle, stella 6 punte, o per andare a togliere la vernice, per fare delle città. Hanno diversi utilizzi, però queste qua servono. Trovate anche loro in descrizione insieme a tutte le altre cose. Allora, adesso passiamo a niente po' di meno che alle tele e ai cartoncini. Allora, lasciate che vi spiego un paio di cose sui supporti che sono davvero molto importanti. Tanto per cominciare, vi consiglio di non utilizzare le tele per imparare. Perché ovviamente le tele hanno un costo. Questa è una mini tela 20x30 che va sui 3,50€, ma ovviamente poi si passa a 4€, 6, 7, 8, 9, 10, fino ad arrivare a 50€ se volete tele molto più grandi. E comunque ovviamente vi consiglio di utilizzare i cartoncini che adesso vi faccio vedere. Oltretutto queste sono tele particolari e costano anche un pochino di più. Perché sono a grana fine, che significa che hanno una concentrazione di cotone praticamente doppia. Non entro nei tecnicismi perché non vi so spiegare di preciso. Comunque sono molto più omogene e il disegno viene molto più omogeneo e sono perfette per noi che disegniamo con gli spray. Io mi affido al mondo delle tele che è un'azienda di Torino, anche perché queste tele non si trovano facilmente nei negozi neanche di belle arti. Non andate a cercare dai cinesi perché non le trovate, a Brico non le trovate assolutamente. Se volete delle buone tele a un prezzo più che onesto c'è il mondo delle tele e vi lascio il link qui sotto. Ormai noi siamo amici perché io ne compro, non si sa neanche quante. Passiamo invece ai cartoncini che non sono facili da reperire perché ovviamente i prodotti per fare spray art non ci sono, non esistono. Bisogna andare a cercarsi il prodotto giusto che magari è atto a fare un'altra cosa, visto che la spray art non è un'arte conosciuta soprattutto in Italia. Non è facile da reperire perché questo non è un cartoncino che si trova in cartoleria, si fa fatica a trovare anche nelle tipografie. Bisogna andare a cercarlo in certi tipi di tipografie che hanno dei macchinari piuttosto vecchi, infatti dove vado io sembra un museo. E non sono cartoncini per stamparsi né per disegnarsi. Normalmente con questo genere di cartoncini si fanno le scatole. Quindi scatoline come questa, ad esempio, questa è la scatolina della mia torsa UV e praticamente si fanno questi cartoncini, queste scatoline qua. Quindi bisogna andare a cercarli in luoghi o chiedere a chi è specializzato. Io però vi tolgo il disturbo perché se li volete li trovate nel link che metto in descrizione. In realtà i cartonzini non vengono proposti così come li vedete 35x50, questa è una misura 35x50, ma vengono venduti in fogli più grandi da 1 metro per 70. Infatti questo è un quarto di 1 metro per 70, oppure mi faccio fare dei 50x70 tagliandoli a metà. Sul mio shop, quindi nel link in bio, trovate le varie misure 35x50 e 50x70, non quelli da 1 metro per 70 perché sono troppo grossi e diventano veramente scomodi da spedire. Però se qualcuno li vuole me li chiede, vediamo se si riesce in qualche modo. Ovviamente non provate a disegnare su quelli che trovate in cartoleria perché vedrete che verrà assorbita tutta la vernice, verrà un pantano, verrà brutto, opaco. Questi qui sono invece lucidi, non assorbono e sono pesanti perché è un cartonzino da 350 grammi, ci sono anche da 300, ma più grossi sono meglio è. Sui fogli ho detto tutto, adesso passiamo al prossimo oggetto. Passerei a questa piccola spatolina. Non è una spatola come le altre, infatti non ve le ho fatte vedere insieme. Queste sono spatole che si trovano nei negozi di belle arti. In questa spatolina normalmente si pittura, si spalmano delle creme e così via. Noi invece l'andiamo a utilizzare per un altro scopo. Con questa spatolina che è leggermente flessibile andiamo a tirare via la vernice che è sul foglio o sulla tela per creare degli effetti, soprattutto effetti di luce. Quindi non andiamo con un pennello bianco per creare un effetto di luce, ma andiamo con una spatolina come questa a tirar via la vernice che c'è sopra per fare venire fuori il bianco del foglio o della tela che c'è sotto. Ed è molto utile, ci si fanno le rocce, ci si fanno gli alberi, uccelli, un sacco di altre cose. Trovate anche questa nel link in descrizione. Non può mancare il taglierino bisturi. Questo è un taglierino che utilizzo per tagliare gli stencil. Come sapete io utilizzo tantissimo gli stencil e chi fa spray art utilizza tantissimo gli stencil. Non si può utilizzare un taglierino di questo tipo perché è veramente grosso e si fanno fatica a fare le curve. In mancanza di questo più o meno ci se la cava anche con questo, ma non è proprio la cosa più adatta. Vi consiglio di trovare e acquistare un taglierino di questo tipo. Hanno anche diverse punte, sono taglierini di precisione e come al solito trovate anche questo il link in descrizione. Costa pochissimo, può variare dai 3, 4, 5, 10 euro se comprate il kit. Questo è in silicone, costa un pelino di più, però è veramente indispensabile per quello che dobbiamo andare a fare. Non possono mancare ovviamente i sottovasi. A che cosa servono i sottovasi? Servono per fare i pianeti, già lo sapete. Quindi si va a coprire la texture che abbiamo fatto in precedenza sul foglio o sulla tela e poi si spruzza intorno. Quando si toglie rimane il pianeta. Non è scontato però il modello di sottovaso come al solito. Perché se utilizziamo un sottovaso con un bordo stondato il bordo si verrà sfumato e il nostro pianeta verrà bello che brutto. Quindi vi consiglio di trovare dei sottovasi con bordi sottili. Più sottili sono meglio è. Ovviamente trovate tutto anche sotto la mia descrizione. Potete comprarli di varie misure o in alternativa si può utilizzare questo arnese. Questo arnese non è altro che un compasso taglierino. Quindi un compasso con la lama. Lo posiamo sul cartoncino che normalmente usiamo anche per disegnare. Ma in questo caso lo usiamo per ritagliarci dei cerchi di cartone di questo tipo qua. Potete decidere il diametro, lo poggiate sul foglio e girate e vi viene fuori questo cerchio di cartone qui. Non è indicatissimo se avete fretta di fare un disegno perché a differenza del sottovaso questo cartoncino va a poggiare su tutta la superficie della vernice che è più probabile che si attacchi perché ovviamente posa su tutta la superficie del pianeta mentre sottovaso invece solo sul contorno. Però è veramente utilissimo, vi consiglio di acquistarlo, costa una decina di euro. Ovviamente trovate nella descrizione. Giornali. Ovviamente sapete già a cosa servono i giornali se guardate i miei video o in qualsiasi altro video di Spray Panther. Servono per fare le texture, quindi servono per andare a poggiare sulla vernice e creare degli effetti che poi ovviamente andremo a vedere nei prossimi video. I tipi di giornali sono tantissimi. Bene o male io uso questi qua, i quotidiani vanno benissimo. Poi ci sono magari, si possono usare anche buste di plastica, non ci sono limiti. I giornali con carta plastificata possono dare degli effetti diversi. Ognuno poi si trova bene con cose diverse, quindi non c'è una regola. Comunque i giornali sono indispensabili e sono gratis. Nastro carta non può mancare ovviamente, questo qui poi vedremo gli utilizzi ma comunque serve sempre. Pesi. Pesi. Sapete benissimo cosa ci faccio con i pesi. Quando poso uno stencil, soprattutto se è uno stencil molto complesso, vado a poggiarci questi dadi perché sono dei bulloni. Bulloni, dadi, renelle, niente di più. Questi qui sono veramente pieni di vernice ma in realtà sono dei dadi. Li trovate in tutte le ferramenta, questi qui non li trovate nella mia descrizione perché veramente sono cose reperibili sotto casa. Un pennello io lo utilizzo, a differenza di molti altri puristi che cercano di non utilizzare pennelli. Io ne uso uno solo per farsi gli alberi, soprattutto alberi, ritocchi, cosine varie. È un pennello, questo di dimensioni medie, ma potete utilizzare qualsiasi pennello volete. L'importante è che lo usiate nella maniera giusta. Diluente alla nitro. Questo serve solo e soltanto per pulire le spatole una volta che le utilizzate perché altrimenti se le utilizzate troppe volte senza pulirle, la spatola si allarga, la riga viene strana, quindi vi consiglio di tenere le spatole pulite. Per pulirle vi consiglio di rovesciare un po' di diluente all'interno di un sottovaso, mettete dentro la spatola e con un pennello di quelli da muro lo usate per pulire. Niente di più, niente di meno, semplicissimo, costa 5-6 euro, vi dura una vita, quindi... Altra cosa, vi servono delle spugne. Adesso io qui non le ho e non ve le posso far vedere. Spugne da dozza, spugne da trucco, non importa. Potete poi tagliarle, le potete spaccare con le mani, però qualche spugna serve per andare a fare i disespugli, per fare degli alberi, foglie, erba, diverse altre cose che poi andremo a vedere strada facendo durante i video. Ultima cosa, e poi il video finisce qui, il tappetino da taglio, che è questo tappetino da taglio qui. Serve per tagliare gli stencil, così il taglierino scorre facilmente, non andate a rovinare nessun mobile. Se usate un legno da mettere sotto non va bene perché si incastra a tagliarino, non riuscite a tagliare per bene, quindi il tappetino da taglio, diciamo che se fate gli stencil è obbligatorio. Costa anche questo una decina di euro. In questi materiali non c'è niente che costa tantissimo. Nella loro complessità, per cominciare, potrete andare a spendere 50-60 euro. Poi dopo ovviamente dovrete rifornirvi di bombolette, quindi le spese vanno avanti, ma come in qualsiasi cosa. Se comprate gli acquarelli, le tempere, le matite, i pennarelli, qualsiasi cosa andreste a fare, una piccola spesa dovrete metterla in considerazione. Qui più che altro ci sarà un ricambio di bombolette, perché il resto delle cose, bombolette e fogli, perché il resto delle cose comunque resta. È molto economica, diciamo, come arte. Quindi il video finisce qui. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti questi materiali. Ho creato insieme ai miei fornitori dei pacchetti già preparati. Se non volete sbattervi, potete comprare il pacchetto basic, che il pacchetto pro, oppure tutto diviso a seconda di come volete voi, di quanto volete spendere. Tutto molto semplice, qua si reperisce tutto molto facilmente. Vi consiglio di prepararvi perché poi nei prossimi video andremo a disegnare. Spero che voi abbiate appunto gli strumenti per poter cominciare. Vi ringrazio. Se avete dei dubbi scrivetemelo nei commenti o scrivetemi su Instagram. Meglio qui nei commenti di YouTube, così teniamo le cose separate. Il mio account Instagram ovviamente lo trovate in descrizione, ma tanto già per il momento almeno tutti mi seguite. Vi auguro buone cose. Al prossimo video.